un po' schifo e gli diceva cosa ha a sinistro e gli è cavolo io non c'è a destra beh si, in interno ma se ti ha passato all'esterno Dani allora, e lui è venuto all'esterno e lui è venuto all'esterno e lui è venuto a correre all'appoggio volevo dargli una scarpata e poi diventare lui non va a giù per i cassisoli, non lo fa rossi no, le ciucche e se stanno caricando i miei che non lo vengono è inutile